Interessante dibattito ieri sera nei locali della sede dell'Arci, in via Morizio Ascoli Oggela, si è parlato di integrazione, una vera e propria sfida per la politica regionale. L'iniziativa è stata promossa da Mediterraneo Sicilia Europa Ollus, il presidente della delegazione locale Emanuele Antonuzzo. C'è una corsa palese più alla poltrona che alla ricerca di soluzioni e noi abbiamo voluto questa sera, vogliamo lanciare una sorta di provocazione, noi proporremo dei temi, uno di questi appunto è l'integrazione di cui Mediterraneo Sicilia Europa fa una sorta di core business, il suo punto forte diciamo. Poi ce ne sono anche altri, c'è la questione delle autonomie che è stata calpestata in maniera terribile negli ultimi anni dalla legislazione regionale, c'è un rapporto perverso da cattiva politica e cattiva economia che in qualche maniera si tengono l'uno con gli altri, certamente queste sono le sfide forti che la politica regionale dovrà superare, altrimenti rischiamo di essere punte da capo ogni 5 anni. L'incontro ha visto la presenza tra gli altri di Maurizio Caserta, professore ordinario di economia politica presso l'Università di Catania e presidente di Mediterraneo Sicilia Europa Ollus, nella sua attività di ricerca scientifica che lo vede coinvolto in organismi nazionali anche quella di saggista su temi di economia politica. I giovani sono attratti dall'Europa centrale dove la gran parte delle attività economiche sono concentrate, dove la gran parte dei servizi sono concentrati e alle periferie, ai confini ci sono arrivi e partenze e spesso questi arrivi e queste partenze generano tensioni. In alcuni casi quando le partenze superano gli arrivi arriva la desertificazione, in molti rapporti sulle economie meridionali della Sicilia in particolare questo termine è stato utilizzato, quella della desertificazione industriale e poi civile. Allora credo che chi andrà a governare la Sicilia nei prossimi anni deve pensare in grande, non può preoccuparsi solo di mantenere il consenso nel Parlamento, di mantenere il consenso nell'isola. Allora deve, se vuole comportarsi all'altezza delle sfide che oggi sono di fronte a questa regione, deve cominciare a guardare lontano, non tanto al suo orizzonte temporale di 4-5 anni o quello che sarà, ma deve guardare lontano. Perché l'integrazione, termine che può essere interpretato in tanti modi, è la sfida ed è anche la soluzione. La soluzione passa attraverso una seria politica dell'accoglienza ragionevole, non gridata, né buonista né cattivista, passa attraverso la ragionevolezza.